Vesto le donne ascoltando la loro anima, in una rivoluzione gentile che possa invadere il mondo di questa era la mission di Silvia Bisconti, fashion designer morta nelle scorse nata a Milano 61 anni fa, nelle sue tante vita è stata costumista teatrale, assistente di Romeo Gigli e direttrice creativa di Maliparmi, oltre che fondatrice del MA, la scomparsa di Bisconti è stata annunciata con un post sulle pagine social della sua azienda. Con grande dolore annunciamo la morte di Silvia Bisconti, visionaria fondatrice di Raptus, condividiamo con voi, sua community amatissima e infinita fonte di ispirazione, come lei avrebbe voluto, il nostro impegno sarà ora portare avanti la sua missione straordinaria, si legge nel messaggio, firmato la famiglia il Raptus Team. Da una sua intuizione sono nati i defilè della rinascita, delle sfilate in cui le modelle erano pazienti oncologiche. Il progetto era supportato dall'Associazione Oncologica San Bassiano di Bassano. Anche l'Associazione La Ricordata, ha portato la bellezza nella vita di tante donne ritornando a loro la gioia della femminilità e l'autostima. Si legge sui profili social dell'Associazione. Anche l'Associazione La Ricordata, ha portato la bellezza nella vita di tante donne ritornando a loro la gioia della... Sarai per tutte noi l'immortale dea della bellezza. Diplomata all'Istituto Marangoni di Milano, poi costumista teatrale in grandi produzioni italiane, Silvia Bisconti è stata per un decennio braccio destro di... Dal 1999, per 13 anni, è stata direttrice creativa per 13 anni di Maliparmi, a Padova, diventando poi, tra il 2012 e il 2004... Dal 1999, per 13 anni, nel 2013 ha fondato... E' mancata Silvia che mi segue da tanto tempo sa che abbiamo fatto molte cose insieme e io da ieri sono un po' sconvolta. Io non sono capace di scrivere delle cose profonde, ho un rapporto terribile con la morte e sono solo sconvolta, ha detto Cristina Fogazzi, sui social estetista cinica parlando... Ciao Silvia, scusa se non sono capace a dire nulla. Queste invece le parole scritte in cui chiede scusa a Silvia per non riuscire a esternare a parole il suo dolore. Un post condiviso da Raptus Silvia Bisconti Chiocciola Raptus